Noi ragazzi non sono solo i ponni, ma anche i bambini, bambini di 14 anni e la sigerin è 13 anni, ha il suo sottotitolo italiano in Italia, il Sattel Cup e viene da Florence, cioè Martina Simoni. Martina, complimenti per questa gara, un cavallo meraviglioso e molto veloce. Come hai fatto il primo giro? Molto bene, mi ha causato un po' di problemi sulla gabbia numero 11 perché lui a fine percorso diventa sempre un po' duro e quindi ho dovuto un po' faticare a fine percorso. Tanti cavalieri sono andato oggi, non è veloce, tranquillo, guarda per la coppa, per gli altri giorni. Tu monta per la coppa? Sì, io sabato con un'altra cavalla faccio la coppa e ovviamente cerco di fare il meglio possibile. Come è Tigor, come cavallo? Tigor è un cavallo molto difficile che non tutti possono montare perché quando sali devi stare molto attento perché potrebbe buttarti per terra e poi per il resto è bravissimo. Avete visto anche la premiazione perché è uno un po' particolare? Sì, non gli piacciono le premiazioni, diciamolo così. E ti piace la premiazione? Sì, mi piacciono molto perché mi danno una certa carica, come a tutti credo. E come ti piace il concorso dell'Aprix House? Perché tu sei qua la prima volta. Sì, è molto bello, me lo immaginavo diverso perché mi avevano detto che era un posto un po' brutto, diciamo. Però mi devo ricredere che, insomma, è abbastanza bello. Grazie mille. 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 Grazie mille.